Io sono un amico dell'acqua. Adoro nuotare e tuffarmi. Mi piace fare il bagno, ma non tanto quanto correre. Non sono solo i fiumi che non possono correre senza acqua. Anche io ne ho bisogno per correre. Se non c'è abbastanza acqua nel mio corpo, divento lento e più debole. Non riesco neanche a pensare molto bene. Questo perché l'acqua è essenziale per il nostro corpo ed è molto pericoloso non berne abbastanza. Sapevate che più del 75% del nostro corpo e cervello sono fatti di acqua? Si può dire che gli esseri umani siano dei piccoli oceani. Sapevate che un adulto può sopravvivere fino a un mese senza mangiare, ma solo tre giorni senza bere? Il nostro corpo non è progettato per immagazzinare acqua ed è per questo che dobbiamo continuare a bere. Quando fa caldo, dobbiamo bere ancora di più, perché continueremo a perdere acqua durante il giorno. La perderemo respirando, sudando e andando a fare... voi sapete cosa! Se poi vi piace correre tanto quanto a me, ne perderete ancora di più. E io odio perdere! C'è da avere sete con tutto questo correre, ma quando sentiamo di dover bere, significa che il nostro corpo è già disidratato e dobbiamo continuamente reidratarlo. Ma non con quelle bevande gassate e zuccherate. Non sono quelle a tenerci in salute. È per questo che io sono amico dell'acqua, perché è la maniera migliore per rimanere idratati. Diventa anche tu amico dell'acqua. Go Run for Fun! Go Run for Fun!